Ancora una volta i santarsenesi negli Stati Uniti fanno sentire la loro vicinanza alla comunità del piccolo centro a sud del Vallo di Diano. Nuovamente infatti hanno deciso di supportare i cittadini di Sant'Arsenio, questa volta per affrontare l'emergenza sociale ed economica provocata dalla diffusione del coronavirus. Ed hanno deciso di farlo pensando a chi versa in condizioni di difficoltà, destinando le loro donazioni per l'acquisto di beni di prima necessità. Così, contattando i titolari della CONAD di Sant'Arsenio, insieme quindi ad Antonio e Cristina Biscotti, hanno messo in piedi una bella e concreta iniziativa alla quale possono partecipare i tanti santarsenesi e non solo, che si trovano nelle varie parti del mondo. In sostanza è stata avviata una raccolta fondi dal titolo Spesa Sospesa sulla piattaforma GoFundMe. Qui è possibile versare un contributo anche in forma anonima. I fondi raccolti verranno trasformati in carte prepagate CONAD da 30, 50 e 100 euro. Queste carte verranno date a quelle famiglie che non riescono a rientrare nel bonus spesa, elargito dal governo tramite il comune di Sant'Arsenio. Una decisione adottata di concerto collente per cercare di aiutare quante più persone del piccolo centro versano in condizioni di difficoltà economica.